Mio padre per amore ha fatto le scelte più importanti della sua vita e lui si è dedicato totalmente alla famiglia ovviamente e alla musica. Lui si è reso conto da bambino che aveva questa predisposizione e quindi ha sentito non come un dovere in maniera negativa, ma come un dovere in maniera positiva, quindi portare rispetto nei confronti di questo dono che gli era stato dato e coltivarlo e studiare e imparare ed è un po' quello che io sto cercando di fare e questo suo mettere davanti la musica rispetto a tutto probabilmente è l'insegnamento che più mi serve nella mia vita, soprattutto visto che voglio fare questo lavoro. E poi come ho detto prima, a livello umano credo che la gentilezza sia la cosa più importante che mi abbia dato mio padre.